Domenica, 25 aprile 1937. Piero fotografa i suoi compagni di gita dall'alto della torre di Certaldo, la città di Boccaccio. Ci sono sempre Russo e Pancrazzi. E poi due amici che non abbiamo ancora conosciuto. Uno è Paolo Treves, quello al centro, in abito scuro. E l'altro è Nello, Nello Rosselli. Ma lo si vede a metà, al margine sinistro della foto. Qui, finalmente, vediamo bene anche Nello. È il secondo da sinistra, ha 37 anni, ed è un vecchio amico di Piero Calamandrei. Qua siamo nel giardino del castello di Monte Gufoni. E qua, pochi anni dopo, saranno portati i massimi capolavori degli uffizi. Qua, per miracolo, scamperanno alla distruzione. Un giovane soldato, che poi diventerà un celebre storico, Giorgio Spini, ricorderà nelle sue memorie. Accesi la torcia e mi trovai di fronte al viso la primavera di Botticelli. E capì che cosa voleva dire che era dolce, che poteva essere dolce, morire per la patria. La macchina fotografica adesso è passata a Nello e Piero esibisce a tracolla la custodia vuota della sua Rolleiflex. Tra pancrazi e russo ci guarda e ci sorride Paolo Treves, milanese, socialista e figlio di Claudio, uno dei leader del socialismo italiano, spatriato avventurosamente nel 1926, morto esule in Francia nel 1933. Anche Paolo lascerà l'Italia. Lo farà tra poco più di un anno, nell'autunno del 1938, appena varate le leggi razziali. Negli anni della guerra parlerà agli italiani da Radio Londra. Nello Rosselli, e qui non lo vediamo perché è lui che scatta questa foto, è uno storico. Ha scritto su Mazzini, su Bakunin e nel 1932 è uscito un suo saggio su Carlo Pisacane. Appartiene a una famiglia della borghesia ebraica, legata alle vicende risorgimentali, che Nello studia anche perché è convinto che per capire la natura del fascismo sia necessaria una revisione critica del risorgimento. Qui invece Piero è tornato fotografo, e infatti rivediamo Nello. I due si sono conosciuti nel 20, quando Piero si è avvicinato ai fratelli Carlo e Nello Rosselli, che in quell'anno davano vita con Salvemini alla prima organizzazione antifascista, il Circolo di Cultura, col suo foglio clandestino, il non mollare. Questa, 25 aprile 1937, sarà l'ultima passeggiata di Nello. Ha deciso di raggiungere Carlo, tornato a Parigi dalla guerra di Spagna, ferito e sofferente. Chiese il passaporto, ricorda Piero, nonostante che noi cercassimo di trattenerlo, e glielo dettero con insolita celerità. Ci disse addio con un filo di mestizia negli occhi. Da pochi giorni gli era arrivata in casa una quarta culla. Ci salutammo, partisti senza più voltarti, col tuo passo solido, con la testa gettata un po' all'indietro, come per prendere sui capelli scompigliati tutto il vento della primavera e, sulla fronte alta, tutto il sole. Nel pomeriggio del 12 giugno, dalla mia finestra, sentì gridare a squarciagola da un giornalaio la ghiotta notizia di cronaca. L'uccisione dei fratelli Rosselli! Chi li aveva uccisi? Nessuno si poneva questa domanda. Chi aveva ucciso Matteotti? Chi aveva ucciso Amendola? Chi aveva ucciso Gobetti? Chi aveva ucciso Gramsci? Questa è la lettera che Piero manda alla vedova di Nello, Maria Todesco. Gentile signora, non ho saputo trovare altro modo più eloquente per esprimerle il mio dolore che questo, mandarle qualche immagine del nostro Nello tratta dalle fotografie delle indimenticabili passeggiate domenicali, che erano, alla fine di ogni settimana, come un'attesa evasione dalla prigionia e che ora, nel ricordo, sono una ragione per riempire di tristezza tutte le nostre giornate e per non poter posare gli occhi sui paesi e sui monti senza pensare a lui, con un nodo alla gola.